Sicuramente penso sia stata un'esperienza utilissima e penso sia stato molto interessante anche il fatto di poter lavorare con scuole che hanno indirizzi diversi e quindi studiano discipline diverse. In questo modo ho cercato un po' di aprire la mente e capire anche quello che non è rigorosamente del mio indirizzo ma per aprirmi e essere a 360 gradi su tutto il mondo, sulla tecnologia in questo caso. Io sono un informatico, sto studiando informatica alle ITT Bonarroti e questa esperienza mi ha fatto capire come si può integrare l'informatica un pochino dappertutto quasi e soprattutto di come la meccatronica sia importante nel campo industriale perché ovviamente siccome si continua ad andare avanti, si continuano a creare nuove tecnologie, l'informatica ha un ruolo sempre più fondamentale assieme anche a elettronica e meccanica. Quello che ho fatto e quello che ho appreso può essere utile anche a una persona che magari studia informatico e elettronica per poter arrivare a una soluzione funzionale e utile. Dopo mi ha aiutato a capire che comunque nella vita si può sempre imparare perché ho appunto scoperto cose che magari conoscevo ma per sentito dire e ora che le ho imparate in maniera concreta e sensata posso anche applicarle in un futuro sul mondo del lavoro.